Il ponte di San Giacomo dei Capri al Vomero è un pezzo del paesaggio incompiuto italiano da sistemare, un'infrastruttura mai completata, un luogo abbastanza nascosto e dal quale si accede attraverso un parco residenziale. Il progetto di recupero è stato presentato ieri mattina nella sede del Lance, a margine della presentazione di un concorso di idee che mette in palio 10.500 euro. Sarà possibile presentare i progetti fino al prossimo 3 maggio, a valutarli una giuria formata da docenti universitari, architetti e professionisti di fama internazionali. Le migliori proposte saranno esposte al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli, e saranno votate anche dai cittadini. A parlarci dell'iniziativa la presidente del premio Green Care, Benedetta De Falco. Prevede un invito a progettisti, ingegneri, architetti, studi di progettazione per ripensare questa grande infrastruttura urbana abbandonata da circa 40 anni nel rione alto di Napoli. 140 metri lineari, 2.000 metri quadrati di suono disponibile a pensare ad un giardino, ad un parco pubblico, così come chiedono i cittadini di questo quartiere. Un quartiere densamente popolato, costretto a cambiare quartiere per poter avere un'area verde fruibile. Quindi noi ci aspettiamo che per il 3 di maggio arrivino tanti progetti da poi mettere all'attenzione della nostra giuria, che è una giuria scientifica, una giuria tecnica. È un'infrastruttura che si deve sistemare e deve passare il messaggio che si può fare anche a Napoli. Quel viadotto fantasma può diventare una risorsa per l'intero quartiere del Vomero, ad affermarlo l'assessore all'urbanistica del Comune di Napoli, Laura Lieto. I fondi servono, ma prima servono i progetti, nel senso che la ricerca dei fondi è sicuramente un'attività essenziale, ma è ancora più essenziale e viene ancora prima il progetto, le idee, la capacità di saper vedere una trasformazione, di costruire una visione. Angelo Lancellotti, presidente del Lance di Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato come il progetto apre nuovi scenari nell'ambito della rigenerazione urbana. Noi intendiamo promuovere un'architettura che sia costruire intorno alle persone. I progetti devono tenere conto delle persone e l'architettura deve essere un elemento identificativo della città. Per Grazia Torre, presidente di Napoli creativa, occorre immaginare nuove opere per la città, spazi da vivere tutti insieme. Coinvolgendo i cittadini nel giudizio finale della scelta del progetto, cerchiamo proprio di dare voce a tutte le categorie che fanno parte della società.